Parnassus Apollo. Non sente la montagna chi non sente questa farfalla simbolo dell'Alpi. Segantini pittore fu compagno intimo del Parnasso. Tutta l'arte del maestro non è che la montagna intravista dall'ala trasparente. Voi sorridete in credula scorrendo l'ali chiare. Passate sui papiri, le pieridi, le coliadi, lantocari. Cercate in vano sorridendo muta. Ma il vostro riso incredulo s'arresta. Sostate appena sopra una farfalla ignota e dite risoluta è questa. Questa e non altra. Tolgo l'esemplare. Osservate la grazia. Col papirio e la Vanessa è certo la farfalla dei nostri climi più meravigliosa. Ma pure al vostro sguardo di novizia non è questa bellezza singolare? Mentre pensate il volo del papirio sul trifoglio fiorito e la Vanessa in larghe roti lente sulle aiole, non tollerate il volo del Parnasso in un campo, in un orto, in un giardino. Evocate un pendio di Rododendri, coronato da Beti e di Nevai. E la bella farfalla, ecco Sadagia, sullo scenario, in armonia perfetta.